Una delle novità più importanti a Sonia di Ginevra è la Peugeot 208 Restyling. Questo è l'allestimento GT Line che vi ho fatto già vedere in dettaglio come allestimento, come modifiche sugli altri modelli di Peugeot. Vi faccio un po' vedere invece gli altri colori e gli altri modelli della 208 che ci sono qui nello stand perché è la protagonista dello stand Peugeot. Nuovo motore 1.6 a bassi consumi, blu HD, 79 grammi per chilometro, con potenze da 75 a 120 cavalli. Questo è anche un nuovo colore orange e si può avere anche il cambio automatico Aisin a 6 marce. Vediamo anche un po' adesso i dettagli che rendono diverso questo restyling dalla precedente 208. La 208 è una macchina abbastanza recente che ha avuto anche successo, quindi è stata ritoccata qua e là. Fari bicolore, nero cromo con luci diurne a led. Questa cornice della griglia della calandra può essere cromata oppure nera come la vedete qui. Passiamo invece alla parte laterale, chiudo la porta così la vedete meglio, che è quella diciamo meno interessata da modifiche. Gli specchietti possono essere come prima sia cromati che neri e dietro i fari hanno gli classici ormai per gli ultimi modelli Peugeot Artigli del Leone, però questa volta con questi led che sanno molto di prototipo, sono molto belli, molto moderni. Stiamo parlando di un restyling, quindi anche dentro niente rivoluzioni, visto che tra l'altro la 208 era stata rivoluzionaria proprio nella posizione di guida, volante piccolo, strumentazione rialzata per una guida, una sensazione tipo hai presente presente gli autoscontri quando andavate da bambini? Ecco, molto diretta e divertente. Quello che cambia invece è l'infotainment, volendo si può avere il mirror link della 108, quindi la possibilità di collegare lo smartphone, il telefonino con delle applicazioni e anche c'è la possibilità di avere la telecamera di retromarcia. Per il resto, motori, oltre al diesel che vi ho raccontato, c'è il 1000 benzina 3 cilindri 68 cavalli, il 1200 aspirato sempre 3 cilindri 82 cavalli oppure turbo 110 cavalli e come sportivo ovviamente rimane la GTI, 1600 turbo 208 cavalli e c'è una novità, si può avere anche una GTI Peugeot Sport più cattiva.